manifestare riguardo la pessima condizione dell'edilizia scolastica ma anche per rivendicare una scuola migliore, manifestare un diritto fondamentale che la scuola dovrebbe garantirlo anche se in molti casi non è così. Siamo qui per rivendicare una scuola migliore che sia un punto di riferimento per gli studenti, una scuola dove come regola fondamentale vige la libertà di parola.